Noi aderiamo totalmente a questo sciopero, grazie ai giovani di tutto il mondo, grazie a Greta, grazie ai giovani e ai bambini della nostra città, che siamo la città d'Europa con il maggior numero di giovani. A sostegno di questa iniziativa approveremo anche una delibera domani OBC, ossigeno bene comune. Stiamo andando sempre di più verso un piano strategico in cui la città si schiera con azioni concrete contro il cambiamento climatico, contro le emissioni di CO2, in favore invece di una campagna che porti alla difesa dell'ambiente, della salute, delle alberature, dei parchi e di tantissime altre cose di cui parleremo nei prossimi giorni andando nel concreto. Quindi ormai mi sembra che è evidente a tutti, c'è anche qualcuno che ogni tanto fa ilarità di troppo, ma i cambiamenti climatici sono talmente forti, talmente imprevedibili, che succedono eventi atmosferici che mai sono accaduti negli ultimi tempi, come i 130 km orari di qualche tempo fa e come nemmeno le previsioni meteorologiche ormai riescono, non dico sempre ma qualche volta, a prevedere ciò che accade. Allora ci svegliamo tutti, oppure veramente, come ha detto giustamente il Presidente della Repubblica qualche ora fa, l'intero pianeta è a rischio e saranno i giovani, non solo loro, ma soprattutto i giovani, anche in questo caso, insieme alla cultura, insieme all'impegno civile a salvare il pianeta e a salvare l'umanità.